buongiorno a tutti i miei cari dite la verità che vi siamo mancati dite la verità ditelo ce lo potete dire io buongiorno a tutti ragazzi buongiorno a quanto tempo non facevamo una live ragazzi ditemelo è da un bel po mi sape allora luigi visto che abbiamo come dire le ore e proprio i minuti contati perché dobbiamo dare un sacco di roba abbiamo poco tempo lascio a te la allora allora ragazzi come ben sapete il compleanno il decimo compleanno anniversario di geek buying e quindi per onorare il questo storico che ormai ci fa accompagnare da così tanti anni abbiamo deciso di fare questa live con offerte esclusive è una live un po' diversa dal solito non verranno forniti coupon ma semplicemente nel link in descrizione che trovate nel canale youtube vedrete un link quel link vi riporterà una pagina ciao di geek buying dove ogni quattro minuti a partire dalle 12.04 si attiverà un'offerta nell'ordine in cui lo trovate nel carrello vi basterà semplicemente cliccare sul prodotto che volete acquistare vi porterà automaticamente alla pagina del pagamento vi collegate con paypal procedete al pagamento il prodotto è vostro il prezzo scontato quindi molto molto più semplice di inserire il coupon e tutto e e tutte diciamo i macchie le macchine e tutte diciamo le complicazioni che potevano tutte le ambulanze che passano sotto casa tu comunque adesso chiuderò mi sigillerò dentro se comincerò a sudare non vi preoccupate è normale e anche io sono sigillato questa è la pagina di cui vi parlava il buon gigino vedete ci sono tanti prodotti che potrete acquistare a prezzo che diventa decisamente meglio e c'è da dire inoltre che oltre che chiaramente alla pagina poi lui ci condividerà i link nel nostro gruppo geek buying d'italia che se mi dato un secondo vi farò vedere miei cari ed eccolo qui voilà questo è il gruppo del quale poi condivideremo il prodotto con il link eccetera come dire è una linea un po diversa dalle altre proprio perché non c'è la corsa di mettere il coupon c'è da dire però che comunque sono prodotti che hanno un numero un numero limitato no di pezzi disponibili in totale in totale sono circa 15 prodotti se non mi sbaglio sono 14 prodotti per ogni prodotto a soltanto due pezzi è valido il prezzo a cui viene sì 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 bene abbiamo fatto molto semplice ragazzi è tutto chiaro tutto semplicissimo e basta andare nella pagina cliccare sul prodotto e procedere l'acquisto l'offerta live si attiverà ogni quattro minuti ognuno e partiremo dal canale o preferisci che faccia vedere la pagina ma secondo me vabbè si facciamo il canale così quindi ragazzi andate in questo canale tra l'altro se volete non siete ancora adesso ve lo incollo qui in modo tale eh che possiate comunque accedere non solo alle offerte di questa live ma anche alle offerte eh che ci sono dei buying ogni giorno perché questo è un canale in cui condividiamo giornalmente le offerte a livello consumi qual microonde conviene acquistare eh infatti questa era una cosa che io volevo farci un video su come risparmiare corrente elettrica acquistando i giusti prodotti eh farò un video proprio su questo perché ormai la corrente costa più dell'oro salutiamo il il caro Antonino ah ragazzi oggi comunque è l'anno massico di Luigi eh quindi dovresti fare agli acudini che eh oggi compie compie oggi pare sono santo sei santissimo sì sei santissimissimo colgo la palla al balzo per dirvi sì seguitemi il canale di geek buying perché in questo periodo stanno facendo appunto molti sconti in vista del loro decimo anniversario e tra cui ci sono tanti prodotti interessanti come Roborock aspirapolveri bici soprattutto che è un è un tipo di prodotto su cui stanno puntando molto eh i ragazzi di geek quindi vi consiglio di darti un occhio allora io però direi già subito di partire perché il prodotto live si sta attivando in questo momento e ragazzi è una Fafreeze F100 una mountain bike elettrica che costa solamente grazie al nostro sconto settecentodieci euro quindi ragazzi non la riesco a trovare però eh è lei sì sì è la prima è la prima ah ok quindi qua c'è qua c'è il il prezzo di partenza non c'è il prezzo esattamente non appena viene cliccato sopra riporta la pagina prodotto col prezzo scontato quindi ragazzi se volete quel prodotto quando poi comunque quando nel momento in cui non lo pubblichiamo nel canale vuol dire che il prodotto si dovrebbe essere attivato cioè 99 su 100 salvo problemi tecnici ma non dovrebbero non dovrebbero essercene quindi vi basta semplicemente eccola qua infatti Dario può confermare ecco qui tra l'altro ragazzi c'è anche una borsa una pratica borsa in omaggio se vi interessa comunque la 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 particolarità di questa Fafreeze che nessuno sa è che montano motori prodotti da sony strano ma vero montano motori prodotti da sony il prezzo ufficiale di mila e cinquecento venticinque euro perché comunque ragazzi stiamo parlando di una bicicletta elettrica da ventisei da ventisei poveri ce l'ho prodotta da ventisei quarantotto volt la batteria quindi vuol dire che spinge una batteria con un 10,6 miliampere ora quindi dà anche una buona una buona autonomia in pedalata assistita ce ne sono due pezzi che costano settecentodieci euro signore e signori invece di mila e cinquecento venticinque ah ci segui su tiktok grande mi fa mi fa molto piacere che ci segui su tiktok anche perché abbiamo aperto il profilo da poco no da relativamente poco ragazzi dovete sapere che comunque questa live andrà molto a macchinetta perché abbiamo tanti in poco tempo quindi sarai tu a come dire a dettare il ritmo in modo tale che ti rendi conto anche quando sì ragazzi in pratica il canale ogni allora ma non è ancora uscito mi sa post trigger dato problemi eh no perché non è ancora uscito perciò dicevo ragazzi comunque disponibile sulla sulla pagina della di gp che tra l'altro adesso vi condivido perché a questo punto se non è ancora uscito ragazzi se volete andare nella pagina con tutti gli sconti dovete cliccare il link che sto per condividere in modo tale che qualora vada lento su telegram qui potete trovare comunque già tutti i prodotti pronti per la per l'acquisto con quando si attiva lo sconto tra l'altro no non è ancora non è ancora partita non è ancora stata condivisa lo sai molto strano allora mi sa che utilizzerò un altro metodo il buon metodo esatto il buon metodo a mano come si soltanto chi fa da sé fa per tre esatto sì no perché non sta condividendo e allora faremo così dai allora ragazzi allora il prossimo prodotto che andiamo a condividere è uno dei robottini più apprezzati probabilmente della da quando sono usciti ed è il famosissimo midea m7 pro ah sì sì questo l'ho anche recensito sì sì esatto è stato apprezzatissimo veramente tantissime persone l'hanno desiderato e purtroppo poi è successo che questo prodottino qui un po i venditori hanno fatti furbetti hanno alzato un po il prezzo e non si trova più agli sconti che normalmente ovvero sotto i 200 euro che normalmente si trovava quindi noi abbiamo chiesto al buon gic di farci un cupo di farci un prezzo eccezionale in vista di questo evento ci abbiamo fatto ci siamo fatti fare due pezzi a soli 189 euro vedete adesso non è ancora attivo lo sconto e c'è ancora il prezzo il prezzo originale però quando si attiverà lo sconto eccolo qua si è attivato esattamente comunque 189 ragazzi questo è un affare altissimo livello perché qui ha un 4.000 pia di potenza d'aspirazione la banca il pavimento c'è una batteria da 5.200 miliampere o c'è un bel aspira polvere ed ha se ricordo bene è quello lì che ha il mop che vibra sì il mop che vibra sì c'ha pure quella anche quella funzione lì infatti era ottimo dalla recensione dicessi che era proprio ottimo pure per lavare per lavare le bike te la sei persa adesso danni perché l'abbiamo l'abbiamo appena condivisa l'abbiamo appena condivisa però vabbè comunque seguici perché ci saranno altri guarda prova a fare non so già provato a cliccare a vedere se il prezzo è ancora attivo perché alcune volte essendo due pezzi potrebbe essere ancora attiva sì probabile adesso vediamo un attimo sì sì è ancora attiva ok quindi se nel caso in cui gli interessi ancora lì sono solo due pezzi però quindi non stiamo a pensarci troppo su sì perché insomma vanno via subito velocemente quindi questa ancora attiva e questa però è una sorta di monta in mike quindi non so che ti serva va bene ok io direi di continuare velocemente aspettando che si attivi anche l'altro eccola qua stato condivisa anche nel canale di telegram di g bank italia quindi troverai il link con il prezzo se ti sei connesso adesso ti ricordo che con questa diretta gli sconti saranno disponibili senza il coupon c'è una pagina che che ho condiviso ma comunque link lo troverai anche su g buying italia tramite la quale potrai accedere a due pezzi per ogni prodotto che condivideremo senza coupon scontati infatti qui 7 e 10 è un super sconto parliamoci chiaro è uno sconto anche per un ottimo sconto anche questo idea m7 pro perché ragazzi questo qui lava bene il pavimento vibra e la una maniera eccezionale infatti sì allora introduzione al prossimo prodotto è il b maxi 11 come potete vedere anche stesso nella paginetta del sito di g buying ed è un un tablettino che sta riscuotendo molto successo perché a un prezzo relativamente contenuto e un processore unisoc octa core comunque di questi nuovi processori che sembrano fatte apposta si montano sempre principalmente sui tablet e il classico tablet da divano funziona per l'intrattenimento in maniera ottimale e è straconsigliato sinceramente perché per chi non vuole spendere troppi troppi soldi è un prodotto anche stilisticamente cioè proprio a livello di fattura molto apprezzabile perché realizzato in metallo e comunque ha anche la quella la connessione 4g nel caso in cui lo si voglia portare in giro senza utilizzare anche una bella batteria da 6.600 miliampere ora quindi c'è un'ottima autonomia e infatti sì e noi ci siamo fatti fare un coupon cioè non è un coupon ci siamo fatti abbassare il prezzo a per solito i pezzi a 145 euro non si trova in questo caso anche in questo caso non è ancora attiva no manca ancora un minuto alle 12 e 12 si attiva fra un minutino vedrete che questo 171 e 60 scenderà al di sotto dei 150 euro e vi ricordo che per 150 euro probabilmente non comprate neanche un paio di scarpe quindi magari così vi portate a casa un tablet 4g tra l'altro che ha se non ricordo male 8 gigabattimo della rama può essere vediamo sì 8 gigabattimo sì dovrebbe essere 828 sì sì 828 questo qui tra vecchie che è veramente massa anche tra gli utenti sta è molto apprezzato 145 euro eccolo qui ragazzi è uscito anche sul canale vi basta cliccare sul link che vi riporta la pagina e cliccare sul prodotto e procedere all'acquisto molto 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 semplice eccoci qua dovete cliccare su questo link in realtà il link per ogni prodotto è sempre lo stesso perché mi porterà poi nella pagina del carosello in questo modo voi potete andare ad acquistare il prodotto che vi interessa quindi se io clicco qui vedete si apre un'altra chiaramente finestra come non vi posso vedere però se clicco qui arrivate in questa pagina in cui magari ci siamo anche noi del primo play facciamo tipo inception capito ci vede a mamma mia che cosa veramente un inception e poi qui vedete c'è questa carosella nel quale vedete tutti i prodotti che andremo a condividere con gli sconti vedete per esempio nei primi tre che non abbiamo già condiviso sono già attivi gli sconti mentre in questi altri prodotti non sono ancora attivi perché si attiveranno ad un orario ben preciso miei cari amici telespettatori va bene ok perfetto il prossimo prodotto di cui parleremo è un nuovo prodottino un nuovo prodottino che è uscito vabbè alla fine i prodotti voi li vedete tranquillamente nel carosello però ci piace ci piace parlare allora è roborock q7 max la persona è senza doc la persona è base che è stato recensito il doc costa più di lavoro sì ma infatti è assurdo però ragazzi se vi interessa soltanto il robottino che appunto è comunque ragazzi un roborock e anche il buon armentano se non mi sbaglio che l'ha recensito l'ha apprezzato molto è il nuovo diciamo il nuovo robot di roborock che non saprei ancora definirlo in che fascia di prezzo lo stesso robot che l'ha voluto secondo me nella fascia media però adesso nella fascia media c'è un trend di questi produttori soprattutto quelli che vendono robot senza doc di diato svuotamento stanno puntando molto sulla fascia media lo stanno facendo con prodotti che hanno caratteristiche difficili da trovare nella fascia più alta per quanto riguarda i modelli che hanno la torretta perché questo qui per esempio c'ha vabbè la solita potenza d'aspirazione eccetera però questo è la versione max la versione max in realtà differisce da quella la normale perché finalmente ha non solo il contenitore dello sporco più grande ma soprattutto il contenitore dell'acqua più grande qui parliamo di 350 millilitri ok in genere in questa fascia di prezzo questi modelli si fermano intorno ai 250 maledetti loro mentre con questo con questo max invece con questo q7 max potrete avere diciamo più autonomia per quanto riguarda per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti 4200 pia di potenza d'aspirazione quindi siamo un bel po vabbè non fanno una differenza 200 pia però comunque sono 200 pia in più rispetto alla media il prezzo originale è 333 euro e 68 invece adesso ve lo proponiamo a 305 euro per due prezzi quindi sono 28 euro circa di sconto poi ragazzi non vi vieta nessuno di eventualmente successivamente voler comprare la doc per completarlo questo qua magari è qualcosa che no perché ve lo dico perché anche perché se sto gico lo vende la doc separatamente se vinto se vi dovesse interessare quindi noi abbiamo abbiamo pensato di proporre il robot e non il bundle completo perché alcune persone dicono no ma la doc si ok è comoda però è anche diciamo ingombrante molto spesso in alcuni ambienti si preferisce utilizzare semplicemente la basetta di ricarica adesso si è attivato e quindi ragazzi io ve lo condivido pure nel canale 305 euro il roborock il nuovo roborock q7 max che ricordiamoci che questo è stato presentato quest'anno è sì 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 adesso stanno passando da me le ambulanze comunque senti sì io credo che non si senta più da me vabbè che a me qua comunque non è che passino spesso però è una zona in cui le auto diciamo che si fanno sentire vabbè sto chiuso dentro tanto se noterete ma sono il nuovo ufficio di giz ragazzi abbiamo cambiato ufficio guardate che super ufficio che abbiamo non è vero però comunque sono il nuovo ufficio di giz perché abbiamo cambiato l'ufficio ma comunque lo faremo vedere ancora breve arriverà un bel video ragazzi miei sul nuovo ufficio di giz e dopo le mie raccomando tutto a commentare sì sì a vederlo soprattutto allora ragazzi è parlando del prossimo prodotto allora avevamo detto che alcune persone preferiscono i robottini senza doc allora beh accontentiamo pure le persone che vogliono la doc e quindi abbiamo deciso di proporvi il pro scenic m8 pro che è un robot aspirapolvere che ovviamente alla al suo interno la doc di svuotamento cioè in bundle e tra l'altro è un prodotto che ha riscosso molto successo anche perché pro scenic effettivamente ha lavorato molto sta lavorando molto bene diciamo e lavora bene e continua un pochino a mantenere i prezzi bassi rispetto agli altri sì diciamo a questo a questo approccio molto alla show miglio degli aspirapolvere delle delle vecchie approccio io l'ho consigliato sì a un il mio vecchio coinquilino lui si è trovato molto bene la regalata la mamma ha detto non non da nessun nessun tipo di problema anche perché ragazzi è comunque un robottino che tiene il senso c'hai la torretta lidar per appunto per non andare a sbattere ogni 30 secondi vicino ad un mobile perché ragazzi vi fate le migliorisate quando vedete i robottini quelli la veramente fatti male che cominciano a sbattere ovunque non aspirano questo non è quel tipo anzi no perciò molto bene questo sopra la navigazione lds quindi l'aspirazione e pro scenic tra l'altro cosa che tutti danno un po per scontato ma non è sempre così pro scenic è compatibile sia con alexa che con google assistant ci sono dei modelli per esempio che sono compatibili solo con alexa altri sotto google assistant lui invece viaggia una meraviglia da solo ragazzi io poi ci tenevo a sottolineare una cosa se volete risparmiare qualcos'altro come potete vedere sotto la descrizione c'è scritto 100 dollari 10 dollari sotto clarna ovvero se voi pagate con clarna in tre in tre rate al momento dell'acquisto potete usufruire di un ulteriore sconto sul prezzo finale quindi in questo caso che il nostro eh eh pro scenic m8 proprio lo proponiamo a 305 euro voi pagando con clarna potete usufruire di un altri di altri 20 dollari di sconto sul prezzo finale facciamo anche un piccolo focus su che cos'è clarna clarna è il il sistema di finanziamento che in genere diciamo in italia lo ha introdotto eh samsung samsung da tempo permette i pagamenti tramite clarna adesso anche store come jeep bike in sostanze come il pago in tre rate di payball diciamo così viene pagato l'importo viene diviso in tre rate senza interessi e insomma potete spendere meno però dividete no spendete uguale facendo la somma questi sono i trucchi che fanno quelli là delle rate se ti fanno credere di spendere meno e quindi spendi di più no la cifra è la stessa viene divisa in tre rate però qui non ci pagate gli interessi e inoltre avete anche lo sconto avete anche lo sconto quindi qui avete ulteriori 20 dollari di sconto giusto gigino? Sì 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 altri 20 dollari di sconto e infatti anche l'offerta 305 euro infatti condivisa anche sul canale e ragazzi se mi raccomando devo dire una cosa comunque per questi robot aspirapolvere no vedete tutti i brand tutti i brand fanno queste immagini con i cani che sono lì rilassati mentre passa il robot devo farvi vedere un poco franky perché adesso si è quasi abituato ma all'inizio solo voleva mangiare l'ulso l'avevo preso per una palla no il canerina sorella invece fugge un fifone no no invece franky lo voleva distruggere adesso diciamo fa finta di niente ha detto abbo tanto a case me ce ne sono 5 o 6 allora ragazzi invece per il prossimo prodotto abbiamo deciso di fare qualcosa di differente ovvero proporvi un prodotto che secondo me è molto adatto anche per l'estate come potete vedere sempre nel carosello è l'absalzino mini se ovvero un dronino un dronino esattamente eccolo qua eccolo qua beh è un dronino fino a un certo punto perché comunque funziona su rc e non su wifi quindi ha un range più ampio rispetto a quelli che vanno su wifi in genere già a 380 è un buon prezzo sai perché in genere a questo prezzo si trovano modelli grandi perché questo qui si tratta di un drone grande non come per esempio il mini che su rc insomma costrò un pochino costrò un pochino di più tra l'altro questo mi sembra che abbia una fotocamera 4k si sta scritto 30 frame per secondo stabilizzazione gimbal su tre assi insomma batteria che dura circa 40 minuti quindi non è niente male il prezzo di partenza è 381 ma caro luigi dimmi qual è il prezzo scontato il prezzo scontato luigi non me lo può dire ragazzi perché si è bloccato e vedo che anche scappato ma ve lo posso dire io se volete a ok luigi mi dice che ha la schermata della morte su su meraviglia comunque beh ragazzi ve lo posso dire io il prezzo di questo drone un attimo che lo trovo era lui che doveva dirlo sì perfetto il prezzo di partenza è 350 il 381 euro il prezzo scontato sarà di 355 euro vediamo se si attiva la l'offerta no non si è ancora attivato non si è ancora attivato comunque aspettiamo che arrivi il buon luigi volevo solo dirvi una cosa su questo drone ha il sistema di tracking ai un sistema di tracking ai simile a quello che c'è su quelli di dji chiaramente stiamo parlando di una fascia di prezzo un pochino più bassa e vincenzo sì si è bloccato il buon luigi mi dice che ha avuto una schermata blu della morte se salvatore mi sta seguendo non ti preoccupare me la vedo io perché dovrebbe rientrare luigi a breve però comunque più che altro ti chiederei nel caso in cui luigi non riuscisse a farlo di condividere i post nel gruppo nel canale perché io purtroppo purtroppo non lo facciamo un piccolo recap nel frattempo vediamo se si attiva l'offerta o meno ok 355 perfetto l'offerta si è attivata da 3 e 81 siamo passati a 355 vi ricordo che per poter accedere a queste offerte ragazzi dovete andare nella pagina di g buying pagina che potete raggiungere anche tramite i link che noi stiamo condividendo nel nostro canale telegram g buy italia voi andando su questa url non serve alcun coupon per i prodotti che stiamo condividendo adesso andando su questo url andrete a finire proprio su questa landing nella quale vedete c'è questo andando su questo url andrete a finire proprio su questa landing niente ragazzi stavo facendo Inception è partito il nostro video c'è questo carosello nel quale potete vedere l'elenco dei prodotti che andiamo a condividere se vedete questi prodotti con la scritta off sono quelli là per i quali gli sconti si sono già attivati altrimenti dovete aspettare che si attivino gli sconti su per gli altri prodotti che è successo? devo entrare ma di più che altro sta venendo Salvatore ah è tornato Luigi è tornato Luigi ragazzi sono arrivato io e è tornato Luigi salva Salvatore dai faccio un rapido saluto ciao ragazzi eccolo qua adesso aggiungiamo Luigi Gigino ok ragazzi scusate purtroppo Windows mi fa gli scherzi anzi non è manco Windows che è proprio il computer la famosissima Blue Skin of Death quindi il computer mi è morto un attimo va bene io nel frattempo ho fatto devi solo condividere nel canale l'offerta del drone io ne ho parlato perfetto sì quindi ho fatto un recap su tutte le modalità di acquisto per questa fantastica offerta perfetto grande Dario questo stavo dicendo prima Davide non abbiamo oggi non faremo coupon ma condivideremo dei prodotti a prezzo scontato dei quali sono disponibili solo due pezzi a prodotto mi tagliavo il po' che potete come dire ai quali potete accedere sia tramite il nostro canale Telegram che è G-Buying Italia che adesso vi faccio vedere eccolo qua questo è il nostro canale Telegram oppure signore e signori andando nella pagina proprio di G-Buying che in basso ha questo piccolo carosello tra il quale potete comunque vedere tutti i prodotti che arriveranno il prossimo il prossimo ragazzi è lui un Aldo Cube ma lascio la voce e lascio la parola al buon Luigi allora ragazzi il prossimo prodotto è un Aldo Cube by Play 40 Pro è un altro tablet al pari del Bimax che più che altro lui punta molto al tipo di display che possiede ovvero un display 2K con votato principalmente alla multimedialità questo dispositivo tanto è vero che se volete guardare serie per l'appunto se volete guardare se volete utilizzare la fruizione di contenuti in ogni suo genere questo tablet è particolarmente indicato tanto è vero che stesso nel nostro gruppo di utenti GizDills Gruppo per l'appunto quando ci consigliano un prodotto un tablet economico principalmente per poter utilizzarlo soprattutto Netflix Amazon Prime e tutti i servizi di streaming noi consigliamo questo qui decisamente consigliamo questo qui e ragazzi le signorine che ballano sì le signorine che ballano ci vuole vedere tutto quello che vuoi eccola qua sì sì e ragazzi noi abbiamo abbiamo strappato un prezzo un prezzo diciamo per soli due pezzi al stato GIC a soli 148 euro e 90 e sono circa una trentina di euro di sconto eh dai 181 torniamo di nuovo sotto i 150 ci sono comunque prezzi che ragazzi si è attivato purtroppo non si vedono da un bel po' anche complice diciamo le varie vicissitudini che purtroppo stanno accadendo e stanno influenzando l'economia globale non stiamo qui a indicare tutti i dettagli ma potete ben capire diciamo che cosa ci si si riferisce veramente la situazione comunque lasciatelo allora ragazzi è uscito il drone ma non è ancora uscito il tablet mia cara Gigi eccolo qui eccoci qua vi ricordo anche una volta per chiunque si fosse connesso da poco che per accedere a tutti gli sconti e tutti i prodotti a prezzo eccezionale qui vi conviveremo questa giornata basta che andate nel canale di G5 in Italia e cliccate questo link da qui potete accedere a tutti gli sconti miei cari amici telespettatori eh tutti ok e allora anche la Play 40 Pro è andato è andato è andato adesso adesso andiamo sull'audio ah ma io vedo che c'è addirittura no c'è il pad di sconto ma buon ragazzi non fa niente quello me lo devo comprare io quello non lo voglio tra l'altro quello là ce lo siamo fatti fare a un bel prezzo proprio la metà va bene non entriamo nei dettagli non entriamo nei dettagli parliamo delle Trosmart Onyx Prime che tra l'altro sono va bene ragazzi sono delle TWS ovviamente delle cuffiette con supporto all'ANC quindi con la riduzione del rumore queste cuffiette tra l'altro nel gruppo proprio stamattina se ne parlava il nostro caro amico Pierpaolo che è sempre uno dei più attivi all'interno del gruppo che diceva ragazzi ma per caso ci saranno delle cuffiette eh sì ci sono delle cuffiette quindi se ti interessano caro Pierpaolo non so se sei connesso con noi però io ti consiglio di dare un occhio a queste qui queste normalmente su Amazon sono più di 40 euro sono più di 40 euro senza lo sconto che hanno fatto per noi sono in vendita ad un buon prezzo sì con lo sconto che ci hanno fatto a noi che è quello di 28 euro e 90 quindi meno di 30 euro solo per due pezzi eh ragazzi sinceramente se vi interessano un paio di cuffie ma soprattutto più che altro perché ci hanno pure chip Qualcomm quindi supporto aptX tengono l'ANC sì ma poi vi ricordo una cosa questo è un discorso pericchi se magari avete delle cuffie buone che non volete portare queste state a mare per esempio potete comprare queste cuffiette che vi danno un'ottima qualità e che pagate effettivamente pochissimo cioè ma poi come come ormai ben sappiamo i prodotti Trosmart soprattutto per le sì sono veramente sono veramente veramente ottimi dal punto di vista qualità apprezzo no ma io ho apprezzato moltissimo di Trosmart delle cuffie o o nia o venire ah 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 quelle là pure ce le abbiamo oggi ah perfetto le apollo le apollo Q10 sì sì ah bene bene le apollo Q10 allora ragazzi manca un minuto per l'attivazione del prodotto ok infatti adesso ci riuscirò il prezzo il prezzo di di partenza di 38 euro guarda come vanno comunque volevo solo condividere con voi il fatto che io sono chiuso nella sala riunioni del nuovo ufficio di Giz che è una sala molto ampia ha due finestre anzi due balconi un tavolo in vetro una sedia molto comoda ma per garantirvi un audio ottimale ho dovuto spegnere il climatizzatore il che vuol dire che sto morendo di caldo ragazzi ok ragazzi dovrebbe essere attivato si riesce a fare un refresh 28 euro ragazzi queste non potete farvele scappare perché sono veramente ottime ed è uscito anche il post nel nostro fantastico canale nel nostro fantastico canale quindi il link noterete che è sempre lo stesso sì sì ragazzi basta basta cliccare sul link e accedete al carasella quanto è bello il carasello ah è vero le vedo le apollo hai ragione hai ragione sì sì sono proprio subito dopo sì bravo bravo queste qua queste qua se vi interessano veramente un paio di cuffie rovedere allora come potete vedere io sulla mia testa ho delle soundcore che le Q20 queste qua sono che però sto un po' maledicendo ma secondo me è sempre il problema del mio compito che ogni tanto non prende dispositivi bluetooth e Vincenzo non ci ha fatto una domanda lui ma i prodotti che andranno in sconto sono tutti quelli linkati in descrizione alla pagina sono quei prodotti che trovi sotto al carosello cioè il carosello sono quelli là sono i prodotti che andranno in sconto si attiveranno ad un determinato orario normalmente 4 minuti da un'offerta all'altra e vali di solo per due pezzi ti basta cliccare su quel prodotto e procedere all'acquisto bravo volevo vedere se avete studiato ho studiato ho studiato ho fatto i compitini a casa bravo allora questo invece è l'altro prodottino esatto queste sono le Apollo Q10 un altro prodottino molto interessante però appunto le stavo dicendo ragazzi queste qua a differenza delle Soundcore che purtroppo sto un po' maledicendo ogni tanto hanno un'imbottitura molto molto comoda le Soundcore almeno non lo so se le mie Soundcore hanno qualche problemino ma queste qua le ho trovato molto molto comode e soprattutto hanno l'Hunk hanno che appunto per la riduzione dei rumori è una sacrosanta cosa io ormai lavoro sempre con le cuffie ed Hunk per non non avere nessun tipo di distrazione quindi pure per gli studenti che se la vogliono portare nell'aula studio e non avere problematiche oppure ascoltare una lezione senza che qualcun altro possa dar fastidio oppure semplicemente in vacanza queste qua sono molto molto consigliate eppure sui mezzi pubblici sì sì io l'Hunk da quando l'ho scoperto ormai non ne riesco a fare più a meno e ragazzi queste qua ci siamo fatti fare due pezzi a meno di 20 euro a meno di 20 euro quindi se vi servono veramente un paio di cuffie over here con Hunk eh ragazzi questa qua è una scelta obbligata cioè ci sta poco da fare allora c'è Antonino che ci fa una richiesta un pochino un pochino particolare poi magari sull'argomento ci arriviamo perché adesso dobbiamo seguire un attimo il nostro calendario diciamo così di prodotti e dopo magari comunque tu contatta sempre Ask perché lì magari trova una soluzione sì sicuramente ci sarà il nostro staff che saprà aiutarti sotto questo punto di vista Ask Mr. Deos allora manca un minuto all'attivazione direi perfetto io non riesco a fare un video che l'ho tolto il prezzo di partenza è di 36 euro e 22 centesimi che è già un buon prezzo effettivamente e ci arriveranno al prezzo di 19 e 90 19 euro e 90 sono due menu al McDonald ragazzi due menu al McDonald non mi parla di McDonald perché sai che vicino un ufficio c'è il McDonald eh lo so conosco la zona di fuorigrotta quindi conosco noi siamo pronti ai piedi del San Paolo ragazzi ai piedi del San Paolo ai piedi del Tempio si dice Tempio dopo ve lo faccio vedere eccoci qua ecco qua e anche questa offerta miei cari amici è andata ed è anche sul canale di G-Bike Italia un po' per sicurezza ve lo ricondivido il canale così potete accederci molto più velocemente ecco qua ve lo faccio nei commenti su YouTube te lo metto un attimo in evidenza così potete subito accedere al nostro fantastico canale chiaramente dovete iscrivervi e attivare la campagna ah no con la YouTube scusate mi sono un po' confused allora ragazzi appena il buon dare ho fatto ho fatto vedere tutto quanto io vi comincerei a parlare anche già del prodotto successivo che ovviamente nel carosello già vedete voi qual è questo è il prodotto fichissimo da portare in spiaggia esatto è quello proprio che stavo dicendo ragazzi per i vicini soprattutto mettete una bella canzone neomelodica e se volete ascoltarla di un certo livello ragazzi la dovete ascoltare con lui con il Tron Smart Splash ragazzi questa qua si effettivamente cioè già stesso il nome è la garanzia del prodotto cioè è una cuffietta che tra l'altro è tutto se mettete se mettete la musica neomelodica il vostro vicino d'ombrellone prenderà il vostro Tron Smart lo lancerà e gli farà fare splash nell'acqua e lei si salva e lei si salva quindi potete continuare potete continuare tranquillamente a romperdi oppure oppure i pesci oppure i pesci potranno ascoltare la fantastica musica neomelodica e beh effettivamente magari un po' di cultura anche per loro ragazzi comunque questa qui è proprio la cassa da portare dove volete quindi ci va tra l'altro se ne prendete in coppia hanno la funzionalità di pairing quindi funzionalità vanno in stereo e quindi potete soffrirla lo so magari per il party sulla spiaggia che volevate organizzare con i vostri amici potete utilizzare per sincronizzare i guelloni in modo tale che ci sia un sistema audio diffuso comprate la Trosmart Splash Mini tra l'altro ha questo fantastico tamarrissimo led RGB celeste sotto che è fantastico ma questo è 15 watt quindi il volume è curato sì sì è bella potente è bella potente piccolina è potente e ragazzi noi ci siamo fatti fare due pezzi alla modica cifra di 10 euro 9 euro e 90 quindi cioè praticamente vuol dire che ha il prezzo ufficiale che è di 20 euro ne comprate due avete la coppia stereo magari eh ragazzi veramente che 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 cassa ti prendi a 10 euro niente cioè che sia valida almeno una battuta oppure nel senso non l'hai fatta apposta tipo che cassa che cassa ma poi facciamo stare allora ragazzi dovrebbe attivarsi fra un minutino se non erro more or less no non ancora manca ancora un minutino vabbè comunque io ti direi di lasciar perdere comunque il il deal del prossimo prodotto dopo questo ah dici come mai non lo so qualcuno nell'ufficio che ci sta ascoltando che per favore me lo compri che io da qua non posso farlo carissimi colleghi che siete collegati state seguendo la live per favore compratemi il prossimo prodotto compratemi se non me l'ho comprato ci pacco tutto eh ve lo dico salvato me se stai seguendo accatta allora è fantastico il prossimo prodotto poi ci arriveremo ci arriveremo vediamo se si è attivato credo di sì te lo dico subito la Trosmart sì 9,90 ok ecco qui eh allora adesso parliamo di questo prodottino che il bondario credo ami alla follia ma infatti io non lo vedo soprattutto dobbiamo andare a quello dopo ah dobbiamo andare a quello dopo eh allora ragazzi allora ne parlo io perché sennò il bondario soffre un poco magari se effettivamente gli date supporto dall'altra parte i ragazzi dell'ufficio finalmente questo vi dico già che questo pad che è un pad universale per smartphone che trasforma lo smartphone in una switch e tra l'altro è compatibile anche con l'Inpass è certificato proprio Microsoft su Amazon costa 99 euro tac qui 57,19 è già buono che prezzo è il nostro allora ragazzi il nostro prezzo è di due soli ovviamente come abbiamo detto sono solo due pezzi a 37,90 euro che è il prezzo minore a cui sia mai sceso è meglio dei prezzi delle scorse live cioè perché poi è universale si allunga capito si connette all'OSPC e si possa anche programmare i tasti con l'applicazione tra l'altro no è fatto molto molto bene a differenza di quello là con solo bluetooth che infatti Geek l'ha levato proprio da mezzo questo qua appunto essendo type C si può utilizzare con il game pass perché quello là bluetooth se non mi sbaglio non ti permette di farlo proprio per il eh ma c'era il problema di grande col bluetooth eh infatti questo qua invece è perfetto il buon Dario lo sa bene e ragazzi 37,90 euro solo due pezzi non lo so volete tenere a bata il ragazzino vostro figlio sotto l'ombrellone gli date questo game pad e si gioca tutti i giochi e voi vi godete la spiaggia diciamo così ma a parte gli scherzi cioè ragazzi per gli amanti del gaming sia da mobile ma come detto appunto col game pass ma con Stadia eh con Stadia cioè ragazzi a chi piace ottimo acquisto ottimo acquisto Mauro fa piacere sì è vero eh ragazzi non c'è non c'è alternativa perché è veramente il pad definitivo e tra l'altro so che Gamesir sta puntando molto su questo e penso a breve a breve se ne parla l'hanno annunciato bisogna vedere ma ancora ha dei prezzi esorbitanti sopra i 100 euro il Gamesir X3 eh però ragazzi sinceramente quello più 100 e passa euro questo qua ve lo portate a casa 37 euro e qualche cosa e va una bomba cioè quindi raga direi che dovrebbe essersi attivato abbiamo un occhio ancora 57 non è ancora attivo no ah ok ancora 57 sì ok perfetto tra l'altro vi volevo dire un'altra cosa ragazzi ho notato che nel carosello non vengono aggiornati i pezzi disponibili che è il carosello di jig buying perché alcuni pezzi sono stati venduti sicuro sono state vendute le cuffie no di che ha comprato sì 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 però vedete qui sta ancora scritto aspettate che qua parte il YouTube guardateci ci vediamo proprio in in con l'inception qui vedete c'è sempre scritto due pezzi disponibili quindi il mio consiglio è di cliccare provare a fare l'acquisto e vedere che ve lo facciano pagare con il prezzo scontato mi raccomando sì ragazzi anche perché appunto voi una volta che cliccate subito sul prodotto quello subito esce il prezzo scontato quindi vedete immediatamente se effettivamente sono terminati o meno anche perché magari se riuscisse ok perfetto allora condivido tra l'altro questo qua se lo volete comprare con con clarna lo dividite per 3 se volendo lo si può fare anche con clarna purtroppo non ti sia non non è l'importo non è sufficiente per avere lo sconto supplementare perché se no veramente era regalato però comunque uno se lo paga magari in 3 rate ma ragazzi come se lo vengono fidatevi di me fidatevi di me questo è proprio bello infatti se salvo 3 non me l'ha preso non gli parlo più quello veramente non me l'ha preso mi ti faccio vedere bastanti eh e vabbè perché poi faccio sempre queste dirette con gli sconti i cuponi ecc e non riesco mai a comprare niente in realtà ma purtroppo è la cosa brutta di fare queste cose nel senso che purtroppo siamo qui e noi non possiamo abbiamo le mani legate diciamo così eh proprio così dobbiamo corrompere qualcuno di là bisogna corrompere qualcosa sto dicendo da un'ora salvatore di comprarlo ma vabbè comunque come vedete è stato condiviso pure nel nostro canale quindi tutto funzionante e tutto pienamente operativo ragazzi allora eh adesso andiamo andiamo sul serio però andiamo andiamo sul serio eh sì eh sì allora ragazzi il prossimo prodotto è una stampante 3D a resina quindi non quella classica a filamento bensì a resina quindi ha hanno delle tempistiche di stampa più veloci e soprattutto la pulizia del prodotto finale vabbè ci sono anche le washing machine correggimi se non sbaglio Bondario allora la differenza in realtà tra stampante a resina e stampante a filamento oltre che la possibilità di avere un piatto più grande di potersi genere sono più grandi proprio rispetto a quelle a parità di prezzo eh che la risoluzione di stampa è maggiore non si vedono quelle righette che si vedono nelle stampanti a filamento e poi sì ci sono le washing machine nelle quali praticamente si mette acqua e alcol che puliscono proprio la stampa e quindi il pazzetto diciamo comunque qualsiasi cosa si vada a stampare è pulito senza nessun nessuna imperfezione c'è Vincenzo che ha comprato lo speaker Vincenzo sono curioso di sapere se vai in spiaggia con la musica nemmeno di comino eh perché tra l'altro infatti questa qua è la 4k per l'appunto la m3 4k sarebbe il modello diciamo base della serie di stampanti a resina di any cubic e tu lo sai lo sai qual è la differenza tra le stampanti a resina 4k 2k eccetera la differenza è la risoluzione tecnica se vogliamo scendere proprio nel tecnico di tecnico so che la risoluzione di stampa nel senso come avevi detto prima la stampa dovrebbe essere più dettagliata questa risoluzione dipende da una caratteristica della stampante le stampanti a resina hanno un display sotto che si illumina e riscalda la resina il display di questo modello è 4k ci sono display che sono per esempio 2k e quindi hanno una risoluzione di stampa un po' minore di mio caro visto impari sempre cose nuove con il bondario infatti si infatti si lo so ebbè sono le cose belle di lavorare in questo ambito si impara tantissimo tra l'altro la comodità di questa stampante a resina è che ha una porto sb ci si può mettere la pennetta con il file del progetto si usa il display in touch questo qua e si va a stampare quindi non deve essere necessariamente connessa al computer comunque lui secondo me ci dobbiamo muovere perché mancherò 10 minuti alla fine della live ok credo sia attiva allora sono due pezzi a 299 euro è già attiva? sì ok perfetto perfetto è partito Google l'ho fatto a partire Google con perfect non lo so non lo so ogni tanto se mi voglio che vogliamo fare allora ragazzi prossimo prodotto è uno dei prodotti che è stato apprezzatissimo in qualsiasi live è andato a riuscire in qualsiasi live è cosa stavo dicendo in qualsiasi live se lo sono comprato sì ma perché io continuo a chiederglielo alla mia referente di Gicco proprio per questo ogni volta che il live finiscono puntualmente c'ho quello che il ragazzo l'utente che mi viene a chiedere scusami ma la Toshmart T6max mi dispiace sono finita allora io puntualmente mi vado a chiedere alla nostra referente ti faccio un prezzone per le nostre live e quindi abbiamo fatto due pezzi alla modica cifra di 44,90 euro a metà del prezzo di vendita ufficiale praticamente esattamente è fantastico questa a parte che è bellissima secondo me rock per sempre grande Vincenzo Cusaniello anche se non so se il rock in spiaggia sia comunque il rock va bene ovunque rock never die quindi ecco allora qui ci sono le cose qui il cinese è incredibilmente piccolo questa Toshmart è incredibilmente grande però credo che sia più il cinese esatto ah ok che effetti a di quanto che effetti speciali sono questi sono i recensori di Geek lo sai lui lavora proprio per Geek che fa le recensioni dei prodotti che hanno simpatico ne ho viste di diverse non ci capisco niente però no è resta parlare in inglese il bluetooth 66 watt se ricordo 60 watt che funziona anche la batteria che ha una bellissima pellicola superiormente che è molto bella da tirare via vedete con quale grazia è una cosa fantastica guarda ma comunque è veramente bellina mi ricorda lo smart speaker di huawei si è vero tra l'altro questo è scelto prima del smart speaker di huawei se non erro e ovviamente funzionano in pairing le varie casse crossmart riescono a funzionare in pairing per lato stereo al supporto all'assistente google per poterlo chiamare Siri per poterle interagire quindi rispondere alle chiamate se state connessi col telefono è uno speaker sotto completo di tutti i punti di vista e ragazzi è 45 euro sinceramente 45 euro sinceramente invece di 85 che vi riuscire a portare fra un minutino si dovrebbe attivare ah molto bene ok molto bene voi comunque se avete comprato qualcosa se avete seguito ancora fatecelo sapere perché è spizioso comunque sapere cosa cioè noi lo vediamo comunque però nel senso condividere con chi ci sta seguendo da casa si ci fa piacere si è bene è vero lo noti si sente no non lo noto perché che stanno dicendo probabilmente stanno parlando ad alta voce ah ok ok allora non si è ancora arrivata non si è ancora attivata ragazzi ma breve si attiverà e avrete un super sconto si fra un minuto scusami alle 12.52 ho sbagliato io ma pardon bene bene e va bene adesso per le 12.52 c'è Carmelo ora si perché ha fame ok aggiorna 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 45 e 67 ragazzi 45 euro per 67 ed è un ottimo un ottimo prezzo per uno speaker del genere eccola qua adesso arriverà anche nel canale eccoci qua ragazzi mi raccomando se volete acquistare questo speaker compratelo adesso perché poi dopo vi vengono i sensi di colpa e ci contattate per acquistarlo e purtroppo noi non abbiamo più prodotti disponibili a questo eh infatti infatti ragazzi anche perché questa Trosmart T6 Max mi è stata chiesta proprio nel gruppo qualche giorno fa quindi spero che quel ragazzo sia ancora in ascolto magari per riuscire ad accaparrarsela speriamo bene allora ragazzi il prossimo prodotto penso che il buon Dario ne sappia molto più di me ovvero il Kugokitin S4 tra l'altro anche ultimo prodotto S4 sì è l'ultimo modello 350 watt batteria 10 per ora che si può chiaramente piegare se passa la parte anteriore è un buon prodotto un ottimo rapporto qualità prezzo che è in grado di dare una giusta spinta anche in salita miei cari ragazzi ottimo il prezzo di partenza tra l'altro questo c'ha i prematici da 10 pollici non ce lo dimentichiamo questo prematici è un posto grandicelli allora il prezzo di partenza è 376,86 euro mentre ci siamo riusciti a far fare il suo minimo storico non lo diciamo non dire che lo diciamo ormai sappiamo che nelle nostre live questo è ha 299,90 euro solo per due pezzi meno di 300 euro ragazzi è veramente 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 un affare ho deciso non io che parlo forse è poco interessante però guardate volevo farvi vedere eccolo qui e volevo farvi vedere lo schermo che ha perché è un grande display che effettivamente all'occhio potrebbe sembrare molto ingombrante ma si vede e questa mi sembra una cosa come dire scontata in realtà non è così perché ci sono tantissimi modelli che non si vedono qua è raspetto non si vedono sì ho un vecchio Qgo e ogni tanto mi fa lo scherzetto comunque il Qgo espeghe il Qgo S1 Plus se non mi sbaglio e ogni tanto mi fa lo scherzetto sotto la luce diretta che si vede malino però ormai ho imparato a capirlo senza guardare più che altro lo guardo solo per la batteria però voglio parlare delle immagini della nostra recensione ragazzi guardate qua la cura del dettaglio la dinamicità delle inquadrature comunque prezzo di partenza 3,76 qual è il prezzo scontato mio caro amico 299 euro e 90 per due pezzi ragazzi 299 euro l'utile che ve lo dico ragazzi è minimo storico e si attiva fra un minutino non c'è una cosetta in realtà questo qui se si sblocca arriva anche a circa 35-40 km non si potrebbe fare perché in Italia c'è il limite di 25 però se voi volete rischiare diamo a voi coprire la scelta ragazzi perché ogni uno è il libro del proprio destino guidate consapevoli comunque sempre guidate consapevoli e con prudenza e con il casco perché credetemi che se credete da questi cazzi di scooter la prima cosa che sbattete è la testa è la testa infatti io ragazzi l'ho comprato che lo uso sia sulla mia e-bike sia sul mio monopattino elettrico ragazzi fregatemi se qualcuno vi dice che siete sembrate dei folli con il caschetto ragazzi il casco vi può salvare la vita quindi indossatelo sempre allora fra un minutino abbiamo detto si dovrebbe attivare alle 12.56 adesso sono le 12.56 vediamo se si è attivato si è aggiornato Dario? che dici? vediamo ma c'è Vincenzo che ha comprato qualcos'altro presa mi fido di voi se va male vi vengo a prendere a casa soprattutto Soprattutto Dario mi spessiamo della stessa comunque si si è ok si è attivato ho condiviso anche nel canale condiviso anche nel canale ma ha preso anche la T6 Max è credo di sì Vincenzo non ho capito penso di no ti troverai in amore ti troverai in amore noi quando l'abbiamo avuta in prova in ufficio la mettavamo vi parlo di un annetto e mezzo fa se non di più la mettavamo nella nostra stanza ci siamo abbiamo provato tra l'altro abbiamo provato anche musica metal però da quello che ho capito si è più rockettaro visto che ha dei bassi molti profondi ah ok T6 Max ha dei bassi molti profondi certo per il rock magari uno cerca anche altro però è soddisfacente devo dire la verità è un audio soddisfacente anche per la tipologia di musica che ascolti e ragazzi abbiamo finito i prodottini abbiamo finito i prodottini abbiamo altri tre minuti e poi dobbiamo chiudere quindi vi farei vedere prima di tutto sul nostro canale di Geek Buying per accedere alla pagina del carosello nel quale comunque potrete trovare tutti i prodotti che abbiamo dato in sconto oltre all'elenco di prodotti che ci sono le offerte nel canale vedete il link è sempre uguale quindi andate a cliccare su questo link qui vi si aprirà questo carosello questa è la pagina della diretta vedete anche le nostre facce là se volete e vedete l'elenco di tutti i prodotti che abbiamo dato in sconto non fate troppo caso alla scritta due left perché non si sono ancora aggiornati quindi mi raccomando se volete un prodotto non so se volete acquistare per esempio il mio consiglio è di non acquistare questo ah no questo per esempio sono finiti quando finiscono si sta aggiornando piano piano è rimasto un solo pad è rimasto un solo pad non c'è la miseria forse il mio che mi si è comprato salvatore comunque se andate qui questo è il prezzo scontato sette ore in avanti è un affare che va bene lo acquistate però mi raccomando quando andate a pagare fate molta attenzione al fatto che con Paypal credo che voi andrete a pagare su Paypal ci sia il prezzo scontato perché magari nel frattempo qualcun altro se l'ha comprato e avete perso da fare ragazzi questo è quanto miei cari amici ragazzi poi io vi invito sempre a dare appunto un occhio nel canale di GIC proprio perché sarà ancora ci saranno ancora dei giorni di promozioni per quanto riguarda il decimo anniversario nel posto fissato che purtroppo qui non si vede però ci sono dei coupon eh generici che potete utilizzare sui prodotti all'interno del loro sito per scontare appunto i prodotti che meglio gradite ecco quindi ragazzi il canale eccolo qua questo è il canale e ragazzi questo è quanto la nostra live doveva durare perfettamente un'ora e siamo stati estremamente precisi mancano 15 secondi al termine io niente vi ringrazio di essere stati con noi siete sempre una compagnia fantastica vi do appuntamento alle prossime live che faremo e mi raccomando seguite tutti i nostri canali telegram tra cui questo qua di GIC buying che vedete in sovrimpressione detto questo vi salutiamo e vi auguriamo vi auguriamo un ottimo pranzo che è quello che andrò a fare io adesso ciao ragazzi buon pranzo ciao